Serve sangue zero negativo e zero positivo presso il presidio ospedaliero di Vallo della Lucania. A farlo sapere è il presidente dell'Avis di Agropoli, Rosario Capozzolo, un giovane ragazzo ricoverato in grave condizioni presso il nosocomio vallese e necessita di urgenti trasfusioni di sangue. Per questo faccio appello alla generosità di tutti coloro che ascolteranno questo messaggio, per chi contribuiscano con la loro solidarietà a garantire la continua disponibilità di sangue, Donare il sangue è un gesto semplice ma prezioso che può salvare molte vite umane. L'Avis comunale di Agropoli effettua la raccolta sangue ogni giovedì dalle ore 8 del mattino fino alle 12 nella sede in Viale Lombardia e ogni prima e terza domenica del mese sempre dalle ore 8 alle ore 12. Con il vostro gesto solidale, conclude il presidente dell'Avis Agropoli, Rosario Capozzolo, possiamo salvare la vita di tantissime persone che necessitano di sangue.